Ciao e benvenuti in questo nuovo video di Fisio Social in cui parliamo di dolore nella zona anteriore al ginocchio, esattamente sotto la rotola e quindi nella zona, nel territorio di quello che è il tendine rotuleo. In questo video andiamo a vedere qual è la vera causa di quella che viene chiamata tendinopatia rotulea e ti farò vedere tre esercizi da utilizzare su base quotidiana per andare a migliorare il dolore al ginocchio. A proposito di dolore al ginocchio, se sei nuovo su questo canale ti indico quello che è il nostro video corso principale per il miglioramento del dolore al ginocchio, si chiama ginocchio sano e forte. Per tutti gli altri che già lo conoscono, se non lo avete ancora fatto, vi consiglio di andare a vedere la prova gratuita del video corso ed eventualmente acquistare il corso completo se capite che questo corso può fare al caso vostro, perché nella guida gratuita e nelle varie pagine di spiegazione vengono dettagliatamente spiegati tutti quelli che sono i casi per i quali questo video corso può essere d'aiuto e quindi può aiutarti a migliorare il problema. Parliamo ora di dolore nella zona anteriore al ginocchio. Quella che viene chiamata tendinopatia rotulea viene spessa confusa con quello che può essere l'infiammazione del tendine rotuleo, infatti negli anni scorsi, negli anni precedenti si è sempre creduto che l'infiammazione del tendine fosse e si intendeva l'infiammazione come la classica infiammazione, come quando uno ha una parte del corpo infiammata che è calda, che è rossa in quel senso lì. L'infiammazione o il dolore al tendine è una cosa leggermente diversa e adesso cerco comunque di farla, di spiegarla in meno termini scientifici possibili. Quello che succede quando si ha la tendinopatia rotulea è che di solito c'è un sovraccarico, il sovraccarico può essere di due tipi, un sovraccarico acuto, esempio ho fatto una sessione di basket, infatti si chiama anche ginocchio del saltatore, ok? Proprio perché ha un'alta frequenza di incidenza questo dolore negli sport da salto, quindi pallacanestro, pallavolo o anche la corsa. La seconda categoria sono le problematiche di sovraccarico cronico, quindi faccio una determinata attività per tanto tempo e vado quindi a sovraccaricare in cronico quello che è il mio tendine. Quindi non si tratta in entrambi i casi, non si tratta di un'infiammazione, la tendinopatia indica una perdita di quella che è la struttura del tendine. Immaginate il tendine come se fosse una corda fatta di tante piccole strutture intrecciate tra di loro in modo perfetto. Quando io vado a sovraccaricare il tendine perché magari ho alzato più pesi del solito, perché ho fatto una sessione in più di basket o di pallavolo, perché ho corso più del solito o perché il mio sovraccarico cronico è arrivato ad un punto, permettimi il termine di rottura, nel senso è arrivato al punto per cui inizia a farmi male, il ginocchio si è sensibilizzato, quello che succede è che ho dolore. Qual è la cura che tendenzialmente viene proposta? Sono tendenzialmente delle terapie, sono delle terapie passive, quindi un massaggio, del riposo, una tecar, del laser o degli antidolorifici. Queste terapie sono delle terapie sintomatologiche che quindi vanno a lavorare su quello che è il sintomo, ok? Alcune funzionano, altre non funzionano, ma indipendentemente da quello, quello che io cerco di spiegare sempre ai miei pazienti è che la risoluzione del problema deriva da un lavoro proattivo, ovvero se il mio tendine ha una ridotta capacità, di conseguenza quando io faccio uno squat con un determinato peso, una sessione di corsa o tutto quello che mi va a sovraccaricare il ginocchio, arrivo ad avere più dolore, ma perché il tendine non ce la fa a sopportare quel carico? Quindi la soluzione deve essere di aumentare in modo progressivo il carico che il tendine riesce a gestire, ok? E di conseguenza l'errore che fanno molti è quello di fare un periodo di riposo, riposare una settimana dieci giorni, il dolore nella vita quotidiana passa, ritorno a fare l'attività sportiva e ho dolore di nuovo, ok? Questo perché ovviamente io non ho aumentato la capacità del mio tendine, il mio tendine è uguale a prima. Quindi sappiamo sia dal punto di vista scientifico, sia dalla nostra esperienza con i nostri pazienti, anche dal videocorso del quale ti parlavo, ginocchio sano e forte, che l'esercizio terapeutico progressivo, ok? Proprio come l'abbiamo costruito anche nel corso, è quello che ti aiuta a rinforzare il ginocchio, a farlo diventare più forte, più robusto e più sano, di modo che quando poi ritorni all'attività desiderata, che sia la corsa o semplicemente la passeggiata intorno al parco, il ginocchio non va incontro a questo dolore, ok? Quindi dal punto di vista scientifico la migliore terapia da fare è un lavoro proattivo, ovvero andare a rinforzare il ginocchio e il tendine. Come si fa? Si inizia con degli esercizi isometrici, se siamo in fase acuta e si ha molto dolore e per isometrico intendo una contrazione del muscolo senza che ci sia uno spostamento, esempio la contrazione isometrica del bicipite e quando rimango in questa posizione faccio resistenza. Dal punto di vista scientifico sappiamo che gli esercizi isometrici sono in grado di diminuire il dolore a livello del ginocchio, quindi possiamo usarlo anche come un antidolorifico senza il bisogno di prendere degli antidolorifici o di fare delle terapie passive. Andiamo a vedere adesso tre esercizi da fare in diverse fasi del problema o del dolore che possono essere comunque sempre aumentate in termini di intensità, ripetizioni e serie, quindi le puoi tranquillamente adattare a quella che è la tua situazione. Allora per il primo esercizio usiamo un cuscino, un rotolo di carta, qualsiasi cosa, lo mettiamo sotto il ginocchio, quello che devo andare a fare è andare a sollevare il tallone dal pavimento con il piede a martello se riesco così aggiungo un pochino più di tensione e ovviamente vedo, faccio così che magari si vede meglio, vado a eseguire una contrazione del quadricipite, quindi mantengo il ginocchio sollevato, se non riesco a sollevarlo perché magari ho tanto dolore provo a schiacciare il cuscino, ok? Schiaccio il cuscino in basso, adesso lo faccio vedere di colpo così si capisce il movimento, non schiaccio con la schiena o con il gluteo, schiaccio solo con il ginocchio, mantengo questa posizione per una decina di secondi, ok? Posso partire anche da 5 secondi, mantengo, 3, 4, 5, lascio, riposo 5-10 secondi, quindi è il doppio, devo avere una bella contrazione del quadricipite, ok? Quindi vado, schiaccio, mantengo, come ho detto prima in alternativa posso anche sollevare, ok? Se sollevo sono sicuro che lo sto facendo bene, mantengo, mantengo, mantengo e lascio. Faccio 10 serie da 5 secondi di tenuta o 10 serie da 10 secondi, se inizio ad andare meglio, ad aver meno dolore nell'arco di qualche giorno, aumento, ok? Quindi non faccio più 10 serie da 5 secondi, faccio 5 serie da 10 da 15 secondi, quindi riduco le, non le serie, le ripetizioni, pardon, riduco le ripetizioni e aumento il tempo di tenuta. Questo è il primo esercizio. Il secondo esercizio, il cuscino ha preso in testa Francesco comunque. Allora, il secondo esercizio vado e sollevo il ginocchio, faccio quindi un sollevamento con la gamba dritta. Nella posizione in cui la sto facendo adesso è più difficile, la posizione più facile è supina, quindi mi metto giù e vado a sollevare, ok? Fino più o meno all'altezza dell'altro ginocchio. Non devo permettere, molto spesso capita che il ginocchio si pieghi un pochino, non devo permetterlo, il ginocchio deve rimanere teso, sollevo e ritorno, sollevo e ritorno. Faccio 3-4 serie da 10-15 ripetizioni, ok? Il terzo esercizio invece è molto più avanzato e ovviamente viene fatto in una fase più avanzata del dolore, però ci sono delle persone che con questi due esercizi non hanno nessuna difficoltà e quindi possono passare veramente a tanto più in là. Questo è un esercizio che tendenzialmente proponiamo nelle fasi più avanzate del nostro programma e ovviamente è un esercizio che non deve essere fatto in presenza di dolore. Piccoli fastidietti, doloretti vanno bene ma che poi devono ovviamente sparire nell'arco al massimo delle ore successive all'esecuzione dell'esercizio. Mantengo la schiena ferma e l'obiettivo è quello di scendere indietro. Posso partire diciamo molto semplice, se in questo modo non riesco a farlo, mi metto vicino ad un muro, appoggio le mani al muro e mi aiuto con le mani nella discesa e ritorno, ok? Scendo un pochino e ritorno, scendo un pochino e ritorno. Terza variante è ancora più semplice, posso scendere un pochino e poi ritorno in questo modo, così non faccio il ritorno tramite il quadricipite. Scendo un pochino e poi ritorno. Ok? Questo esercizio lo faccio per tre serie da 5, 6, 7 ripetizioni, non arrivo a farne tantissimo, ok? Soprattutto se è un esercizio nuovo, qualcosa che non ho mai fatto in precedenza. Quindi, ricapitolando tutto, la tendinopatia del tendine rotuleo, quindi il dolore nella zona anteriore dopo una sessione di corsa, dopo aver fatto un'attività più intensa del solito o da un sovraccarico cronico, quindi che è venuto fuori da un'attività che faccio da tanto tempo, va risolta tramite esercizio terapeutico progressivo. Non massaggi, non laser, non altre terapie passive, ma esercizio terapeutico, ok? Bisogna rinforzare il tendine, perché il tendine fa male proprio perché non è in grado di sopportare l'attività alla quale lo stiamo sottoponendo. Noi dobbiamo farlo diventare più forte, ok? Quindi molto semplice il concetto e più che altro è difficile applicarlo e trovare ovviamente le indicazioni giuste. Detto questo, ti ringrazio per l'attenzione, spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito di nuovo ad andare a vedere il nostro video corso Ginocchio sano e forte, iscriverti alla guida gratuita o perché no acquistare il ginocchio diventare anche tu uno dei nostri casi di successo che trovi sempre comunque nella pagina del corso. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima!